La scorsa settimana Stefano Giovanardi ci ha spiegato come osservare la cometa Neowise visibile dall'Italia anche a occhio nudo. Su Twitter vi abbiamo chiesto di inviarci le vostre foto e ce ne avete mandate tantissime. Noi ovviamente vi ringraziamo e ora le vediamo insieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento alla prossima puntata di Futuro 24.